Movimenti al 2008 Volley Domodossola che si muove per potenziare anche le formazioni in campo dopo aver decisamente rinforzato il settore tecnico con l'arrivo di un pezzo da 90 come l'esperto coach verbanese Andrea Cova. Se nella prima squadra che l'anno prossimo giocherà nel campionato di Serie D c'è l'uscita del giovane Lorenzo Putrino in direzione Biella, sono in arrivo due giocatori ucraini, uno nazionale under 18, che in ossola per studi hanno scelto di sposare il progetto tecnico della compagine ossolana e che oltre alla prima squadra potranno essere utili anche nel settore giovanile rendendo molto competitive tutte le formazioni targate 2008. E ormai certo, torniamo al settore femminile, l'arrivo per la squadra di prima divisione della giovane regista Noelia Velsanto, ex Verbania, gran bel giocatore per la categoria, decisamente importanti per le sorti di una compagine che punta, a quanto detto alla vigilia, a salire di categoria trovando un diritto regionale.